abbiamo un sacco di cose da dire, talmente tante che non so neanche da dove iniziare conviene comunque accorpare il tutto stamane le dimissioni della D, della Roma, di Nasoloku c'è la Noglu che infiamma in derby con una videostoria dove punge i rossoneri due stelle da una parte e una dall'altra e qualcosina vorrei pur dirla, visto che un po' si entra nel clima si è appena conclusa una partita dove la Fiorentina ribalta il vantaggio laziale con una doppietta sul rigore di Gudmundson all'esordio che entra praticamente dopo tre minuti ad inizio ripresa e appunto si proporre a rigore e lo trasforma e nel finale porta addirittura il vantaggio mamma mia, poi ci sarebbe anche da andare un po' sulla partita di ieri non mi rivolgo e non sto parlando di Juventus Napoli bensì quella serale perché lì è tanta roba pure, tanta roba allora andiamo prima quindi dalle questioni extra calcio o meglio no extra campo e poi andiamo al rettangolo di gioco linea Soloku dimissioni anche in questo caso arriva una nota un comunicato da parte della Roma dove si ringrazia dimissioni è surreale è surreale quello che sta accadendo in questa settimana alla Roma ed è surreale un po' come come sia stata gestita o meglio scusate faccio prima dire come sia stata non gestita perché a Roma ormai si può dire tutto di tutti e nessuno dice niente nessuno parla e quindi tutto ciò è un continuo alimentare che non fa di certo bene poi alla squadra credo, suppongo e a me ok no no magari Jurci si sia inventato qualcosa per trarne vantaggio da una situazione del genere ma non penso quando non c'è stabilità no nelle fondamente come puoi aspettarla no in altre in altre come puoi aspettare stabilità poi dalla squadra allora cioè siamo partiti con le dimissioni di De Rossi arrivate così dal con l'allenatore che praticamente stava preparando l'allenamento e lo richiamano un attimo e pare che gli abbiano mostrato dei dati per silurarlo cioè le motivazioni sono ancora più ridicole dell'esecuzione che già di per sé è stata abominevole in tutto ciò viene presso Jurci dopo aver provato in qualche modo a contattare Pioli o chi per lui o Terzic così dal nulla così da un secondo al volo vediamo se viene cioè ma cose veramente che se uno ci pensa dice ma siamo veramente dilettanti allo sbaraglio poi in questa settimana si è alimentato un clima feroce che poi ha coinvolto appunto no anche la CEO Lina Soloku Pari si è stata messa sotto tutela addirittura la scorta per i figli accompagnati cose cose assurde assurde che io non entro nel merito perché non conosco davvero non so non so la situazione non so neanche se stia stata creata un po' ad hoc non lo so e quindi è inutile giudicare quello che so è che arrivano oggi delle dimissioni e ancora una volta non sappiamo neanche il perché di questa dimissione per il clima davvero per questa situazione angosciante e non l'avevano calcolata una possibilità di questo genere mi sembra tutto così assurdo ovvio che lo dico questo va sempre detto anzi a carattere cubitale queste cose di minacce di cose nel momento in cui accadono sono veramente da tebellare assolutamente questo questo sia chiaro però non so neanche dove si siano fin quanto si siano spinte alcuni tifosi perché poi se parliamo delle solite minacce sui social è un conto e quelle purtroppo sono alloggi sono alla merce di tutti quindi quello che so invece è che ripeto non c'è gestione non c'è comunicazione tutti possono dire tutto e quindi il clima diventa sempre più rovente come dicevo prima in una situazione del genere non so Juric come deve cercare in qualche modo di trarre il meglio dalla propria squadra che alle 18 scende in campo e ovviamente poi vedremo vedremo e parleremo mi sembro veramente ribadisco i Friedkin cioè loro il grano ce lo ce lo stanno mettendo e di questo ne ho sempre discusso ne ho sempre parlato però a livello progettuale mi sembrano veramente cioè hanno hanno se parliamo di a livello progettuale hanno hanno proprio preso appicconate l'edificio non lo so hanno hanno non si capisce davvero non si capisce davvero nulla e quindi non lo so anche qui ripeto dimissioni del del CEO ma non sappiamo il reale motivo non lo sappiamo almeno io non lo so e quindi non lo so non lo so come lavorare in queste in queste in queste condizioni e soprattutto quale prospettive una proprietà del genere che praticamente così nel giro di qualche settimana vede meno figure come il CEO come l'allenatore praticamente tutto tutto buttato via così prendi un allenatore dall'oggi al domani chi l'ha preso questo allenatore l'ha preso Chisolfini l'aveva preso la CEO l'hanno preso i giocatori perché si parla degli agenti poi uguali l'agente di Juric è uguale chi l'ha preso la porta per favore la porta per favore cavolo cavolo e quindi chi non devi fare casino chiudi la porta porca miseria non lo sappiamo mi fanno mi fanno anche girare a scala andiamo all'altro andiamo all'altro andiamo all'altro l'altro quesito c'ha l'anoglu che infiamma il derby con questo video storia che ho pubblicato 4-5 ore fa su Instagram credo su Instagram ma credo anche no su Instagram è sicuro ma magari anche su forse il tweet non lo so francamente non mi interessa a me interessa il campo ragazzi ve lo dico ve lo dico chiaramente sono anche uno di quelli che come ho detto in passato lo ribadisco gli sfottò mi piacciono assolutamente sì ma credo che siano una roba dei tifosi gli sfottò li devono fare i tifosi per come la vedo io poi ognuno è libero di fare come cavolo gli pare per me lo sfottò lo deve fare il tifoso il giocatore deve fare il giocatore per quanto per quanto mi mi riguarda è anche vero che in passato anche lui è stato punto spesso volentieri quindi per lui è una gara in particolare e se vogliamo ha messo un qualcosa non è che ha detto qualcosa di sbagliato è andato a pungere su una questione che in questo momento è centrale per il tifo nerazzurro e per i milanisti noi abbiamo più stelle le classiche cose che si fanno a chi ce l'ha più più lungo così fanno i tifosi quelli mostrano le sette champions noi mostriamo si gioca così il tifo lo conosciamo come è fatto però come dicevo prima queste io le vedo cose da tifosi nel tifo mi piace i giocatori per me devono giocare però quello che mi importa a me dice Alanoglu detto proprio schiettamente è la prestazione stasera fa una prestazione come si deve è quello che mi mi importa maggiormente se poi vuoi vuoi fare anche il tifoso no fallo ben venga ma quello che conta è la partita di stasera senza se senza ma dove tra l'altro secondo me ha anche limitato i danni Fonseca praticamente The Walking Dead lo hanno definito in questa settimana davvero eppure lui è andato ai microfoni e ha parlato di una squadra che l'ha vista bene è stato anche convincente nel suo speech nel suo discorso e secondo me ha anche limitato i danni quello che conterà ovviamente stasera dove penso e suppongo che non gli basti neanche il pareggio secondo me forse per salvarsi perché anche lì a proposito di proprietà che in questo momento non si capisce praticamente l'andazzo e il Milan fa una discreta concorrenza alla Roma andiamo alle partite andiamo al campo parliamo un po' di Lazio Fiorentina la Fiorentina ci ha messo del coraggio nella ripresa anche con le scelte di di Palladino che toglie sia Ranieri sia Biraghi che Martino Esquarta butta dentro Gudmundson poi addirittura toglie Mandragora e butta dentro che ha buttato qua a me se non sbaglio ha messo a trazione interiore la voleva la voleva vincere è stata forse la squadra che più delle due la voleva vincere sono arrivati due due rigori e mi sento di dire perché qualche polemica già l'ho letta ad oggi purtroppo io dico purtroppo perché a me piace il calcio un po' vecchio stampo se preferite dove ci deve essere il contatto secco e allora ci si deve far male per dare rigore invece non è più così e dobbiamo accettarlo perché due step on foot praticamente sono due rigori punto poche chiacchiere e poche storie e quindi due volte va dal dischetto Gudmundson due volte realizza il vantaggio due gol prima il pareggio e poi il vantaggio quindi una Fiorentina che trova la prima vittoria è buono 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 per Palladino che serviva 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 anche soprattutto un giocatore come Gudmundson che ripeto dopo tre minuti prende e si guadagna questo rigore ed è un giocatore che servirà anche da collante tra attacco e centrocampo c'è stata un'azione nella ripresa dove vedevo che aveva lui la palla ma era talmente scollata la squadra dovrà essere molto bravo Palladino a ridisegnare la squadra per lui perché secondo me è giocatore centrale molto più di colpani che comunque non ha fatto male che c'ha dei colpi interessanti abbiamo visto il palano al primo tempo un colpo di tacco dove per un giocatore dalla fine di tira non ci è arrivato per poco delle belle delle belle giocate la Lazio la Lazio si fa rimontare secondo me con l'assenza di Castellanos ha sbagliato a togliere dia nella ripresa mi sento di dire questo a livello tattico mi sento di dire questo è vero che è stata anche un po' sfortunata per gli episodi del rigore dove poteva comunque fare un po' meglio essere meno il ruento soprattutto Tavares che poi tra l'altro ha messo una bella palla per Gila sul primo gol e poi mi sento di dire che ripeto non avrei tolto dia perché Mangando Castellanos ha lasciato solo non che Pedro sia entrato male no Pedro è entrato bene ma mi ha messo Pedro sotto punta scusate dia davanti avrei invertito in quel caso il ruolo invece è rimasto Noslin che non non si è visto anche onestamente non ha fatto molto questo oggi e magari poteva andare diversamente comunque la Lazio è arrivata a tirare ha visto anche le statistiche che parlano di 20 tiri della Lazio deve essere molto più precisa la stessa Fiorentina uguale dall'altro lato perché poi la Fiorentina anche arrivava è stata una partita equilibrata senza senza dubbio due squadre che ancora possono possono sicuramente lavorare e dovranno e dovranno lavorare per quanto riguarda la partita di ieri molto bella ragazzi Lecce due cose voglio dirle dai sul Lecce Parma molto bello solitamente il Parma che si fa rimontare questa volta invece la rimonta una partita dove addirittura il Lecce in inferiorità numerica se non vado errato era andato sul 2 a 0 e poi viene si è pareggiata la la il numero di espulsioni e quindi si ritorna con lo stesso numero di giocatori della parte e dall'altra e in più nel finale al che era al 92esimo Kristovic sbaglia un gol se la fa un giocatore della mia squadra era una roba del genere io lo prenderei a calci nel sedere ma veramente ve dico veramente a lì secondo me c'è stato quel peccato di sai 2 a 0 siamo praticamente a 3 minuti dalla fine l'egoismo dell'attaccante di provare a segnare c'era il giocatore a fianco non gliel'ha data oh neanche in due minuti ha preso due gol è proprio al 95esimo la beffa del 2 a 2 ma bravo il Parma è bravo il Parma perché ci ha provato in tutti i modi il Parma ho visto delle parate incredibili di Falcone e il Parma a me piace davanti e poi il Parma dietro un po' lascia a desiderare ma davanti veramente incantevole ti fanno divertire ragazzi tra Mann Mihaila Bonny mi piace da morire anche l'attaccante magari poteva fare qualcosa in più in fase realizzativa con Lecce ma mi piace da morire ragazzi giocano veramente bene e sono sono piacevoli sono 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 un piacere è arrivato questo 2 a 2 è raro che Gotti si faccia rimontare in questo modo quindi per il Parma deve valere doppio questo questo pareggio signori fatemi sapere cosa ne pensate voi sono andato un po' lungo gli argomenti da trattare oggi sono stati tanti li abbiamo un po' accorpati come dicevo prima e quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi un grande abbraccio Daneschi ciao 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 Grazie a tutti.